Grazie a tutti. La spegniamo dopo? Non lo chiamiamo maestro? Non si adeguerà sicuramente. Ieri sera quest'orchestra con il coro, il coro lirico di Romania che è lì in fondo, sullo sagrato della chiesa, eravano a Salerno per un concerto con i New Trolls. Stasera un concerto lirico sinfonico. Perché il maestro Padrini ci ha abituati nel corso degli anni proprio a questo tipo di musica, musica a 360 gradi. Ha diretto, per quanto riguarda la musica leggera, diverse volte Lucio D'Arna. Ha diretto appunto concerti con i New Trolls, con i Poo, separatamente, uno per volta, con i grandi successi del rock sinfonico italiano. E poi ancora collaborazioni con Antonella Ruggero, tre giorni fa, quattro giorni fa in Basilicata eravamo.